Ciao a tutti e benvenuti nella mia Cucina Imperfetta. Oggi prepareremo insieme la pasta frolla, un impasto base dolce ideale per la preparazione di crostate biscotti. Per realizzare la pasta frolla vi occorreranno una ciotola, un cucchiaio di legno e una spianatoia. Ci sono vari modi per preparare la pasta frolla, c'è ad esempio chi utilizza il burro freddo mescolato alla farina e poi successivamente aggiunge i tuorli e lo zucchero. Io credo che invece il metodo che utilizzeremo oggi in questa videoricetta sia più semplice e a prova di errore. Cominciamo a preparare la pasta frolla mettendo il burro morbido in una ciotola. uniamo lo zucchero semolato e lavoriamo con un cucchiaio di legno. mescolate perfettamente i due ingredienti. Volendo potete utilizzare anche le mani. uniamo due tuorli e mescoliamo ancora. otterrete una sorta di crema. da ultimo dovremo inserire la farina. Nel momento in cui la farina viene aggiunta al resto degli ingredienti l'impasto dovrà essere lavorato il meno possibile per evitare di attivare il glutine e quindi di elasticizzare l'impasto. lavoriamo grossolanamente con la punta delle dita. e spostiamo l'impasto sulla spianatoia. compattiamo l'impasto con le mani. Compattiamo l'impasto con le mani. ottenuto il nostro panetto di pasta frolla dovremo avvolgerlo nella pellicola. il panetto avvolto nella pellicola dovrà essere conservato in frigorifero per ridurre i tempi di conservazione in frigorifero e garantire un raffreddamento omogeneo dell'impasto schiacciatolo con le mani. ora è pronto per essere conservato. per preparare la pasta frolla abbiamo utilizzato 2 tuorli 125 g di burro morbido 250 g di farina 00 e 100 g di zucchero ciao a tutti ci vediamo alla prossima video ricetta se avete bisogno di consigli o volete darvi dei suggerimenti lasciatemi un commento ciao a tutti sono giuliana e questo è il canale youtube del mio sito www.lacucinaimperfetta.com vi aspetto qui per realizzare insieme tante ricette facili e gustose preparazioni di base, piatti dolci e salati iscrivetevi ciao a tutti ciao a tutti